Ciao ragazzi, dopo aver ufficializzato il sorteggio di Champions League e ne abbiamo abbondantemente parlato nella giornata di ieri sul canale, sono qui ad affrontare un tema molto molto delicato che riguarda l'attacco della Juventus, perché ce lo siamo ripetuti una marea di volte, lo sanno anche i sassi, la Juventus fino adesso non ha segnato abbastanza. Io parto da un presupposto, non è che inserendo un singolo calciatore all'interno della Juventus vai a sistemare tutti i problemi di questa squadra, perché non è vero, mi piacerebbe credere di poterla risolvere in questo modo, ma sinceramente non lo penso, quindi credo che se serva un centramanti a gennaio, sono assolutamente convinto che serva un attaccante a gennaio, ma non sono convinto che anche l'arrivo dell'attaccante possa risolvere tutti i problemi. Un mi piace a questo video per supportare tutto il mio lavoro, tra l'altro in questo momento sarò a fare una risonanza magnetica al ginocchio che mi dà qualche problema un po' come McKennie e vi invito a scaricare OneFootball per cercare poi delle novità inerenti al mio ginocchio, no vabbè, magari il mio ginocchio va a scendere da parte, ma quelli inerenti a McKennie sono abbastanza importanti e ovviamente occhio di riguardo alla Champions League, occhio di riguardo al Bologna che affrontiamo sabato, occhio di riguardo al mercato, perché questo video è interamente dedicato al calciomercato della Juventus, quindi scaricate OneFootball, completamente gratis, il link è qui sotto in descrizione. Aggiungo una cosa molto importante, e cioè prima vi farò una disamina su quelli che sono i nomi che stanno circolando, poi successivamente alla fine, al termine di questo video, andrò a farvi vedere dei dati, dei dati che vanno a confrontare gli attaccanti storici della Juventus dall'arrivo di Massimiliano Allegri in poi, quindi Higuain, quindi Morata, quindi Tevez, Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala, e vi farò vedere le statistiche medie di gol segnati, assist segnati, partite giocate, minuti disputati, e andremo a vedere chi sono stati i migliori, insieme a Vlaovic, Icardi e Cavani, quindi le storie di questi giocatori tutti inerenti alla Serie A, e anche quelli inerenti a questa stagione, quindi gli attaccanti della Juventus e i tre attaccanti, Vlaovic, Icardi e Cavani, di cui si sta parlando per la Juventus in chiave mercato, e vi farò vedere quelli che sono i dati in questa stagione, quindi la prima parte sarà proprio discorsiva tra me e voi, ci sarà uno scambio di opinioni, questa sarà mia e poi la vostra, la voglio sentire qui sotto nei commenti, e poi nella seconda parte del video, quella finale, diventerò un po' più teorico per paraprasare Allegri, e andrò a farvi vedere quelli che sono i dati, e sui dati c'è poco da fare, si può soltanto guardare, leggere, ascoltare e imparare, quindi mettetevi comodi, iniziamo subito con la prima parte, e vi dico che il giocatore adatto, adattissimo, a quella che è la Juventus di oggi è Vlaovic, è ovvio che non possiamo buttare Vlaovic all'interno di una Juve che magari difende bassa, come è stato in occasione di alcune partite, a prescindere il discorso di fondo per tutti e tre gli attaccanti, ma dovrebbe essere così pure per Morata, per agevolarlo, per cercare di sfruttare al meglio le sue caratteristiche tecniche, è quella di avere un po' più di coraggio, perché fino adesso l'abbiamo visto con questo atteggiamento, e poi questo effetto yo-yo, è inutile, c'è poco da fare, questa squadra non è costruita per la fase difensiva che ha avuto in testa Allegri sin dal primo giorno, ad oggi ad Allegri dobbiamo chiedere un po' di coraggio in più, perché rintanandoci sempre nella nostra area di rigore, nella nostra metà campo, l'abbiamo visto sul lungo, prendiamo gol, perché non siamo concentrati sui 90 minuti, non siamo attenti e soprattutto non siamo bravi a gestire l'imprevisto, lo aveva detto Allegri a Udine, che va bene, lì c'era stata la doppia cappella di Scesni, però attenzione, questo è un problema che ci siamo portati avanti anche con il giocatore, il portiere, che ha smesso effettivamente di fare degli errori e che anzi, in più di un'occasione ci ha salvato il risultato, perché siamo partiti male con Scesni, ma sul lungo invece siamo stati penso abbastanza contenti del suo rendimento, quindi quella gestione degli infortuni ce la siamo portata dietro. Tutte le volte che gli altri ci fanno gol, del pareggio, vanno in vantaggio, noi facciamo una fatica incredibile a ribaltare, a capire che la partita si deve vincere e per vincere devi far gol, è inutile difenderlo 1-0 col Venezia per farvi uno degli ultimi esempi che abbiamo fatto, devi attaccare, attaccare, attaccare finché non trovi il 2-0, perché con la Salernitana hanno preso il palo, e anche qua sto parafrasando Allegri, col Venezia invece ci hanno fatto gol e siamo stati incapaci di reagire, quindi questo è quello che chiedo alla Juventus, che sia Morata, che sia Icardi, che sia Vlaovic, che sia Cavani, più coraggio, cerchiamo di alzare il baricentro per agevolare l'attaccante. Morata non è un giocatore adatto a giocare spalla alla porta, Vlaovic sì, è ovvio che Vlaovic non gli puoi chiedere di rimanere là da solo con tutta la squadra dietro di 10-15-20 metri, però Vlaovic sa giocare spalla alla porta, sa reggere l'urto, è un giocatore che prende le botte e sta zitto, sa allargare il gioco, è pericoloso in area di rigore, è un forte colpitore di testa e ci dà una possibilità in più e preparatevi perché faremo un'analisi tattica in riferimento a come nascono i gol della Juventus e segnatevi questa cosa del centravanti abile in area di rigore e quindi Vlaovic è assolutamente l'idea giusta, è l'attaccante del futuro, è un attaccante sul quale ci sta un investimento pesante per averlo lì nel reparto offensivo, l'unico problema è che non ci abbiamo soldi neanche per sognare e quindi Vlaovic probabilmente dobbiamo spassarci la bocca perché non lo potremo tesserare, ahimè ragazzi c'è poco da dire, ma Vlaovic rimane il nome numero uno nella mia lista ed è l'unico che può avvicinarsi a risolverci tanti problemi, non tutti, perché lo ribadisco, i problemi tutti con un singolo giocatore non li puoi risolvere e stiamo ovviamente ragionando su una Juventus che prova l'assalto agli ottavi di finale, quindi contro il Villareal e la possibilità di cercare di arrivare almeno al quarto posto in Champions, Vlaovic è quello che si avvicina di più nella risoluzione dei problemi ma non li risolve al 100%, proprio perché un singolo giocatore non lo può fare e serve anche che i giocatori si diano una svegliata e che Allegri decida di giocare un po' più offensivo, perché veramente il nostro bottino di gol va bene che Ken, Morata aggiungo Caio in quell'occasione singola che ha avuto, di Bala stesso, Chiesa perché sugli aspetti gols sono i giocatori un po' più imprecisi, aggiungo anche Kulusevski, non siamo efficaci negli ultimi metri, non siamo freddi negli ultimi metri, però è anche vero che serve anche un giocatore diverso da quelli che in questo momento abbiamo in rosa. Cavani non è esattamente l'attaccante in grado di giocare spalla alla porta che dicevamo prima, Cavani è un finalizzatore incredibile, eccellente, un giocatore che si sacrifica anche per la squadra, fa tanto lavoro sporco, è disponibile al pressing, è disponibile alle coperture anche difensive, almeno questa è l'idea che avevo di Cavani l'ultima volta che l'ho visto giocare in Serie A, poi sono passati 7, 8, 9, 10 anni, ho fatto una parentesi incredibile del PSG e poi se n'è andato allo United, sicuramente non è cambiato, sotto porta rimane freddo perché l'attaccante, il gol, se ce l'ha sempre avuto nelle vene gli rimane, ricordiamoci che non è più un ragazzino, anzi ha uno stipendio molto molto alto e non andrebbe a fare lo stesso tipo di gioco che ci viene richiesto o che andremo a cercare in Vlaovic, io rimango di questa idea, per me è sì, sia Cavani che Icardi a patto però di metterci dei paletti, che siano 6 mesi secchi, che tu non vogli andare e puoi ingaggiare il giocatore o che tu non abbia l'obbligo, prenditi eventualmente il diritto di riscatto perché sono giocatori non più giovani, giocatori che una volta erano attaccanti di livello, giocatori che oggi ti fanno comodo perché aggiungono qualcosina in più alla rosa della Juventus, ma giocatori che non possono essere il corso degli eventi di una Juventus che vuole modernarsi, che vuole cercare di dare un occhio di riguardo ai giovani, che vuole buttare un occhio al futuro, quindi ritrovarci ancora una volta nella condizione di avere dei giocatori poi tesserati tuoi che hanno degli stipendi troppo alti e hanno un'età media troppo alta e che magari in campo non rendono più come pensavi, non rendono più come una volta, assolutamente no, quindi se si arriva a un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto dove poi la Juventus non va a riscattarli, io 6 mesi di Icardi e di Cavani li prendo volentieri perché oggi sono giocatori che non abbiamo in rosa, diversamente guardo oltre, si deve fare qualcosa a gennaio ma si deve fare anche con un attimo di testa senza rimanere incastrati per il futuro perché oggi la Juventus si ritrova incastrata con tante situazioni contrattuali complicate da Allegri ad Alexandro a Rabiot a Ramsey ma anche in passato abbiamo fatto la stessa cosa con Mandzukic, con Chedira, abbiamo Rugani rinnovato all'epoca, quindi l'abbiamo già visto tante volte, dobbiamo aver imparato dal passato. Icardi infine è un giocatore interessante perché secondo me andrebbe a formare una coppia bellissima insieme a Paolo Dybala, ovvio tutti e due qualche ciacchino fisico di troppo ultimamente ce lo hanno, non mi piace tutto quello che si porta dietro Icardi soprattutto in questo periodo dove ha avuto ulteriori problemi legati alla storia d'amore tra lui e il suo procuratore, cioè sua moglie. Sono quelle cose che magari vanno un po' a deconcentrare anche il giocatore, Icardi finalizzatore implacabile, giocatore fantastico a giocare dentro l'area di rigore, ricordo un po' Treseguet, tante volte il giocatore che non si vede nella costruzione difficilmente lo vede a disposizione della squadra nel cercare di allestire l'azione ma il primo pallone che tocca te lo trasforma in gol. Esattamente quello che manca da Juventus, un giocatore che sta fuori completamente dal gioco e che sta là a trazione perché addirittura Allegri gli manca, un giocatore di questo tipo su cui può contare per il lancio lungo, per metterla giù, per prendere metri e far respirare la squadra, Allegri ha sempre voluto un giocatore come Icardi, lo ricorderete, era stato il grande colpo nella testa di Paratici prima di accorgersi della possibilità di prendere Cristiano Ronaldo, quindi la Juventus aveva già in Icardi individuato l'erede naturale di Guain, giocatori diversi, assolutamente diversi, però sul lungo la Juventus voleva fare quello, voleva andare a prendere anche Icardi ad aggiungere alla Rosa da Juventus, poi magari Guain sarebbe rimasto o sarebbe andato via, io questo non ve lo posso sapere, ma Paratici ce l'ha detto chiaro e tondo, l'obiettivo era Icardi, problema che anche qua sono passati degli anni. È un giocatore Icardi tra l'altro bravo a fornire l'ultimo passaggio, è un giocatore che storicamente come vedremo nelle slide dopo ha sempre fatto tanti assist per i compagni, quindi magari negli ultimi metri potrebbe aiutare davvero Di Bala con un appoggio, potrebbe aiutare Chiesa, quindi io lo vedo inserito bene Icardi in questa Juventus di Allegri perché proprio gli manca ad Allegri con lo sfogo, quella valvola là davanti, come era una volta Manzio, che ci palla lunga su Manzio, che ce la mette giù, la giusta per Pogba, la giusta per Di Bala, la giusta per l'inserimento di Chiedira, la giusta e poi qualcuno arriverà. Questo gli manca ad Allegri e Icardi sicuramente potrebbe dargli quella possibilità lì. Rimane la premessa che abbiamo fatto prima su, però comunque la Juve deve poi aggiustarsi, non risolve tutti i problemi, anzi, tre, sei mesi secchi, perché sennò qua andiamo ancora una volta a scavarci la tomba da soli. Quindi questa era la parte in cui vado a spiegare, secondo me, gli attaccanti che abbiamo elencato, che cosa possono fare. Ora invece andiamo ad analizzare lo storico, no? Tutto quello che gli attaccanti della Juventus attualmente in rosa, gli attaccanti migliori della Juve degli ultimi anni e questi tre che abbiamo citato hanno fatto in serie A. Allora, qua ci sono i gol, ci sono gli assist, le presenze e i minuti, quelli ve li potete guardare in un secondo momento. Dedichiamoci a gol fatto ogni X minuti, contributo al minuto e contributo ogni X presenze. Ho messo in verdino, come potete vedere statistiche da considerare buone, vuol dire che è il limite, oltre no, non sono da considerare buone. 150 per le statistiche da considerare buone, quindi ogni 150 minuti la partita dura 90, 150 se ne aggiungete altri 40, sapete che cosa stiamo dicendo. Contributo al minuto, quindi gol più assist, e invece gol fatto è soltanto il gol. Ogni 120, ovviamente c'è anche l'assist, abbasso il minutaggio. E poi c'è il contributo ogni X presenze, tra l'altro Moise Ken esce proprio di un pelo, si potrebbe inserire pure lui, poveraccio, se vogliamo considerare un tempo e mezzo, ma non è quello che, ovviamente ci sono delle statistiche come gol fatto ogni X minuti, che più è bassa, esattamente come contributo al minuto, e contributo ogni X presenze, più sono bassi, ragazzi, questi dati, migliore è il giocatore. Infatti possiamo vedere, Ronaldo ha fatto un gol ogni 105 minuti e ha fatto un contributo di gol ogni X minuti di 83, significa che ogni 83 minuti Cristiano Ronaldo, o con un gol o con un assist, ti risolveva qualcosa per la Juve. È un dato incredibile, perché significa che parti sempre 1-0, non in ogni partita, mancano ancora 7 minuti per fare una partita. Quindi il dato di Ronaldo in Serie A è veramente una roba incredibile e infatti è 0,97 di contributo ogni X presenze. Qualcosa di mostruoso, mostruoso. Come possiamo vedere, Mandzukic e Ken e Morata e Dybala sono gli unici che non hanno il verde, né i gol fatti ogni X minuti. Ora, Mandzukic poi è stato spostato in fasce, è un uomo di lotta, però ha sempre segnato poco e anche servito pochi assist. Mandzukic è sempre stato un giocatore quanto più di equilibrio, con Allegri a parte la prima parte del suo avventura all'Iventus, dove era il centravanti titolare in cui si alternava con Morata, e nell'ultimo anno in cui con Cristiano Ronaldo ha formato una coppia, dove Mandzukic nella prima parte della stagione ha pure segnato tanto, nella seconda molto meno. Infatti poi c'è stato il declino di Mandzukic che ha portato all'accessione con Sarri l'anno successivo, però Mandzukic storicamente è un attaccante che non ha mai segnato tanto. È il meglio l'ha dato con Higuain, dove Higuain segnava al posto suo. Come potete vedere concentriamoci soltanto sui gol fatti, ma Ken, Morata e Dybala, cioè i tre attaccanti della Juventus di oggi, segnano ogni X minuti tanti tanti più minuti rispetto a tutti gli altri attaccanti, e questo è il discorso storico. Sto-ri-co. Anche Vlaovic non ha dei numeri fantastici nello storico, perché nella prima parte di avventura di Vlaovic alla Fiorentina non c'era stato chissà che cosa, ma nell'ultimo anno Vlaovic è letteralmente esploso. Quindi questo è lo storico generale. Andiamo a vedere questa stagione nello specifico. Ovviamente tolgo i vari Higuain, Mandzukic, Tevez, Ronaldo e lasciamo soltanto i tre che potrebbero arrivare e i tre che sono già della Juventus. Qua i numeri sono imbarassanti. Imbarassanti. Perché Dybala è l'unico che si salva con il contributo al minuto. Ragazzi, ovviamente oltre Vlaovic che splende di luce propria, 76. C'è meglio di Ronaldo in questa stagione e Vlaovic in questa stagione, è meglio della media di Ronaldo con la Juventus che era già eccellente. Per farvi capire a che cosa ci stiamo, che cos'è quell'uomo. Però Dybala sul contributo al minuto è perfettamente in linea con la sua storia juventina. Ogni 118 minuti Paolo Dybala fa un gol o fa fare un gol. Ed è quello che vi dico sempre. Ragazzi, abbiamo assolutamente bisogno di Paolo Dybala in questa stagione. E poi si sta facendo male ogni 3x2 e questo ti deve un po' far ragionare, far mettere in discussione anche il rinnovo a cifre così alte. Però Dybala ci serve. Cioè, è inutile che ci prendiamo in giro. È l'unico giocatore che lì davanti ti crea qualcosa e ha bisogno di un finalizzatore di fianco a lui. L'abbiamo visto. Morata, Ken non sono degli attaccanti d'area di rigore. Possono ricoprire quello che è stato Manzukic in passato. Io magari me li vedo anche in quel ruolo. Immagino che Allegri li proverà in quel ruolo a un certo punto dove se puoi avere a disposizione un attaccante. Perché sono dei giocatori generosissimi. Sono dei giocatori che amano anche partire da lontano. Ma davanti alla porta non ha la freddezza dei veri bomber, dei veri numeri nove. Il problema è andare a vedere Icardi e Cavani. Icardi e Cavani. Allora, focalizziamoci su Icardi. Icardi che, vabbè, non è in Serie A ma è in Ligan. Ha fatto 3 presenze. 3 presenze non sono per niente. Anzi, scusate, ha fatto 3 gol in 13 presenze che non sono per niente incoraggianti. Icardi ha giocato 610 minuti. 610 minuti sono veramente pochi. Un contributo ogni 4 partite 33. Ogni 203 minuti fa gol Icardi. In questa stagione, dove nel PSG non è titolare, non è considerato, le caratteristiche rimangono tali. Però ci sarà un motivo se non viene praticamente mai preso nemmeno in considerazione. Io immagino di sì. Cavani. Cavani è anche peggio. Cavani ha fatto un gol in 5 presenze, sempre solo in campionato. Stiamo parlando sempre solo del campionato. Ha fatto 214 minuti quest'anno Cavani. Quindi ogni 214 minuti un gol. Un gol ogni 5 presenze. Poco. Poi è ovvio che trasportati in un'altra dimensione, dove magari diventano il perno, il centro dell'attacco diventa un'altra cosa. Però i numeri né di Cardi né di Cavani sono incoraggianti. È anche vero che a gennaio tu non è che puoi pretendere il super bomber. Lo vogliamo tutti Vlaovic. Lo sappiamo tutti cos'è Vlaovic. Questi numeri ti fanno ancora più innamorare di Vlaovic. Guarda lì di cosa stiamo parlando. Però Vlaovic lo prendi se hai i soldi a gennaio. Tu c'hai i soldi? No. Allora se non c'hai i soldi per forza di cosa ti devi accontentare dell'usato sicuro di quello che una volta poteva funzionare che adesso magari non funziona più. Quindi prenderlo e lasciare. I Cardi e Cavani sono due alternative importanti che aggiungono qualcosa nell'attacco della Juve. Ma pensare che la Juventus si vada ad acquistare e che vi faccio un contratto che ne so anche solo biennale o due anni e mezzo, un anno e mezzo addirittura forse sono qua a dirvi di no. Un anno e mezzo vi dico di no. Sei mesi lo posso capire perché adesso nell'immediato abbiamo bisogno di un tappabucchi sperando di poter fare qualcosa di importante, una rincorsa a campionato, una Champions League dignitosa contro il Villareal e poi arrivi a quest'estate e con calma cerchi di portarti a casa un attaccante che possa essere considerato tale anche perché poi non riscatti neanche Morata, te ne vanno via due e hai la possibilità di fare qualche cosa. Quindi ok Icardi e Cavani nonostante i numeri di quest'anno disastrosi per tutti e due, da un po' di sale in zucca perché sennò rischiamo ulteriormente di ributtarci nella stessa situazione in cui abbiamo i giocatori, costano tanto, a chi li diamo non lo so, danno e non giocano sempre rotti. Questo bisogna tenerlo a mente. Fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti che cosa vorreste fare, chi andreste a prendere tra Icardi e Cavani qualora potesse essere un'opzione uno dei due. Vlaovic non ve lo metto neanche in lista perché sappiamo tutti che andreste a scegliere lui. Un abbraccio, un saluto, vi farò sapere per il mio ginocchio se è andato tutto bene oppure no e noi ci vediamo con un prossimo video.